Ciao a tutti ragazzi qui è GiaSenechino e siamo in compagnia di Jitzy e Lelouch Con un video molto particolare, se vi ricordate un po' di tempo fa io e Jitzy portavamo le botlane un po' così pazzerelle, un po' birichine Quest'oggi per le botlane birichine e pazzarelle abbiamo pensato anche grazie a Lelouch di portarvi un game non tanto pazzerello Cioè si è abbastanza pazzerello ma innovativo ragazzi perché? Perché stiamo portando Swain Mazar dopo essere stati leggermente reworkati per la mid season Quindi, 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 quindi Comunque vorrei sottolineare che non sono birichini ma è una corzione inferiore inusuale, grazie Raga ho pestato una merda, guarda come cammina Devo pulire, presti la spada Dovamo utilizzare la W snake Perché no? Ah, io sicuro, sicuro che non voglio Beh dai, non importa, facciamo vedere perché non la W, dai Dai, ok, lo facciamo vedere, sei sicuro? Perché, perché dobbiamo perdere, Dio santo, ha detto di no e no, no No, vai, 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 guarda lì con U, vai, dai, bombaste Però, cioè, metti tutto Scusa, dagli una mano tua, io mi faccio il campo Ciao Vabbè, ci sto Io faccio E e 3 auto attack Vabbò papà 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 e qui e qua Za un 아빠 che è il suo banal Manca solo quest'altro ora Non voglio perdere non voglio perdere lex Ma você prende la Q謝謝 grande di super work Ok, fatto Mi ha washottato per stata solo Sto arrivando, sto arrivando Sto arrivando, papapero, papapà Questo last hit è mio E anche questo qui Ho perso solo un minion, in più c'ho un campo intero Tutto da solo Non morire però, caro amico Gizzi Barda è parecchio simpatico Ragazzi, voi mettete sempre un lume, bravi Occhio a quei colpi maledenti Minchia ragazzi Il problema è che se ti metti dietro i minion Ti fa quello, se ti metti davanti ai minion Ti stuona bard Sono molto abili Questi miti Ti vedo molto preparati Oh Poi io stai preso un po' di sberle Eh, mi sape si, la prossima volta farà poco Poco il figo, hai capito? Sì Amma 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 In the jungle c'è un lelush che ci dovrebbe carriar Amma In the jungle c'è un lelush Che secondo me Perderà Ragazzi Sì è un momento di concentrazione Sono circondato Un secondo Ok scusa Madre Mamma mia Guarda io non volevo flashare per non sprecarlo Guarda i cosi Guarda le guarda Che è uno stupro di massa È bellissimo Vabbè Mamma mia Che danno è E mo che fai E mo che fai Mori dai miei cazzo di ragnettini Bastardi Attento Mamma mia lo uccidi Bello No E non abbiamo preso nessuno dei due L'assist Cioè veramente il colpo di torre Proprio l'avrò preso al limite Proprio una cosa Proprio lì bastava E flashavo un attimo Prima Un attimo Io mi metto qui E lo uccidiamo Ce l'hai l'ultima No Sì Sì ce l'hai Sì Grandissimo Vai lì Ulta parte Ulta parte Ulta parte Ulta parte Ulta parte Ulta lontano Vai vai Ulta il primo che becchi Ulta il primo che becchi Ci credo Adesso attacca io Sono andato via Non sto più attacca io Attacca io adesso Ok via 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 Grandissimi Siete proprio abili a fare i dive Lo sapete Siete veramente Bravi E anche un po' euforici No questo è un rischio Veramente enorme Eccolo Con lo smite nel tentativo di Madonna che cazzo di storia Bello 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 Veramente veramente bello Sono veramente euforico Dalla tua azione Giuro Ti è piaciuta? Sì Sì Sei stato veramente abile E bravo Grazie Ragazzi lo possiamo fare Ci sta sciacca top Vai vai Sono tutti top Sono tutti top Quattro top Friedrake E poi pushiamo mid E poi pushiamo mid E poi pushiamo mid Vai 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 Bello bello sto drago Sto drago che fa? Eh Danga gli obiettivi Bella Ciao E mo? Rekt Oh mio Stana Siamo andati tutti i due Succhiare Puttana No bellissimo Eh sì Eh l'herod è quello P ora Ho sbaglio Sì L'herod è quello che dura 20 minuti Se sei in corsia Adesso Namu namu Non lo stanno Oh 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 No Piglalo Piglalo L'ammazza No cazzo Doveva ammazzare lui Prima che lo pigliava Ma tanto non poteva farci niente Ma guarda niente E mo muori però Puttana Se lo ammazzava Rimaneva là E non lo pigliavano Davvero Prendelo Ah non scompariva dopo un po' Scompariva dopo molto poco Poteva andare meglio Ci sta Ci sta Ho fatto comunque una bella azione ragazzi Sono fiero di me Se non c'è avrei Gizzi in team Poteva andare ancora meglio Mamma mia Meno male che Gizzi Ormai si recta da solo Ormai mi auto proprio mi auto recto Aiuto non volevo Mi ha salvato Sono morto io Per te E sono morto anch'io Io santo Mi ha ultato Bard Però arriva Mazar Ho fatto la kill Yeee Mi fa più danno Bard Che misfortune Regà E' meravigliosa sta cosa Devo andare a prendere assolutamente quel blu Ma che cazzo vuole questa Secondo me lo posso fare da qua Ma Bard ti sta parlando Che vuole Ma che cazzo me ne frega a me Guarda guarda No vabbè Dai che lo vio Dai che lo vio Oh l'hai preso Scusa c'aveva già lei un blu Come funziona Sì sì Già ce l'ho vio Pensavo che eri seria Mannaglia la miseria Bello Bella Bella Però muore Eh sì Ma cosa ha fatto E Bard veramente fa più danni del loro mid laner E' bellissima sta cosa Via Minchia Regà ho dovuto tabba What the fuck Mamma mia Mamma mia Sono vivo Peccato L'avevi outplayato malissimo Porca frega C'è tipo snake che stava spammando la R su quel punto Sì Abbastanza Però ci sono riuscita cazzo Io non pensavo che ci riusciva Ragazzi sto mettendo pressione top Quindi di questo non posso fare Eh io sto a provare Qualcosa Sì Stanno arrivato infatti Il drago 15 secondi il drago 15 secondi il drago Famocelo Vai vai drago 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 Solo che è un altro di terra Di terra che palle Caputana che palle Lo facciamo a fare secondo te io ne dubito Penso di sì Se viene sciago Se viene sciago ce lo favo Io me giro Deti il mana per la ulti Sì sì infatti Dov'è? Dov'è sciago? Dov'è? Non c'è Via Guarda quanto cazzo corre quello Ma che è Ma what the fuck Quanto cazzo corre No mi ha tolto troppo Penso penso ragazzi Con il flash ti posso salvare Sì forse sì Bello Ma donna come cazzo Dio ce l'avevo proprio giocato male Buono Fanculo muori Oh porco due Alla zogia Avevo la zogia Che deficiente Perché mi dimentico da aveva zogia Perché Ult almeno Ok Che cazzo fa Eh vabbè almeno ha ultrato Zed zed signori Oh zed è in base è vero Dai zed Base race Base race Bella Oh 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 L'ho bitati L'ho bitati Arriva 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 Vai vai Io non posso andare sì Arriva Ora sto tornando No dai Ma non hai la ulti qualcosa tu No non ce l'ho la ulti Vabbè vabbè però abbiamo preso l'inibita Stavo prendendo un'altra torre Madonna zed grazie Grazie per questo push Che ci ha fatto morire tutti Però È stato buono Ho salvato ecco forse No non è vero Andiamo 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 Arriva Dai ma non lo salviamo Arrivo 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 Che Eh mo dobbiamo scappare Dov'ai Scusa che cosa mi ha one shottato Nei peperoni Oh non possiamo andare Potevamo eh Eh ho capito Eh io mi sono un po' cagato sotto E quello quello Ok Eh sì Vabbè un 3x3 Un'altra volta Oh rega Non ho conto fare sì Che merda È bancato Quanto cazzo è forte Guarda questo Guardo Quanto cazzo è forte su zed Dato Oh Oh Ragazzi è fabenda che il stilato Che la eh Vai vai push Che ho fatto doppia Sono troppo forte C'è ancora la ultimate Ragazzi abbiamo vinto Abbiamo perso pure il terzo inibitore E' fatta E' fatta E' fatta E' fatta Tripla Ahaha Io ho fatto Fatta finiamola C'è la ultima Vai 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 che hai vinto Vi ho carriato malissimo Insieme a zed Pa 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 Vai take Donnogord Ah Basta Questa Che Bene ragazzi Sperando che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Tante altre bot lane Nei commenti Lasciate un like È d'obbligo Noi ci vediamo al prossimo video E grazie ancora alle russi e gizzi Ciao 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 Grazie per la visione!